Le piccole voci del coro Monti Palli è una formazione nata nel 2008 composta da 25 bimbi di età tra i 3 e i 10 anni è nata con lo scopo del coro Monti Palli di seminare l'amore per il canto mantenere la tradizione del repertorio popolare Questi bimbi si incontrano una volta a settimana nella sede per fare canto, vocalità per stare insieme, per imparare a stare insieme Sono sempre a disposizione di tutte le associazioni sul territorio come le scuole, come il comune quindi si esibiscono nelle occasioni in cui vengono invitati anche per la federazione dei cori che ci ha gentilmente invitato a cantare a Padova per l'Unicef e a partecipare allo stage di Revoe con il maestro Lanaro Continuerà questa formazione corale ad occuparsi del repertorio popolare ma anche dei canti che gli autori della Feniacco scrivono per i bambini Sì, 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 oi cara mamma sì che adesso lo sapete il mare che i bambini Sì, 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 oi cara mamma sì che adesso lo sapete il mare che i bambini è tutto è tutto